Buonasera a tutti, siamo lieti purtroppo in una giornata di pioggia che sembra che caratterizzi le nostre conferenze perché anche le precedenti sono state contrassinate dalla pioggia, speriamo che questo porti bene. Siamo lieti di nuovo di avere un'occasione di incontrarvi, abbiamo volutamente mantenuto lo stesso panel di relatori che sono anche dei grandi amici e quindi abbiamo il piacere di poter riprendere un po' le fila di un discorso che avevamo lasciato circa un anno fa. Io direi l'introduzione che ha fatto la dottoressa Buffacchi è un'introduzione che sicuramente lascia spazi a un certo ottimismo, forse lei è un po' più ottimista di quanto sia io però confermo che tutte le cose che lei ha detto sono vere e quindi indubbiamente se pensiamo a dove eravamo un anno fa e se pensiamo alle cose che sono successe in Europa, in particolare nel corso del 2012, sicuramente la situazione da un punto di vista dei mercati finanziari è decisamente migliore. Ricordo solo a tutti che fino a prima di quest'estate la discussione sul fatto che effettivamente l'euro riuscisse a reggere come valuta di riferimento e di unione dei paesi europei era un qualche cosa che animava i dibattiti. Direi che con l'intervento da parte della Banca Centrale Europea che ha sostanzialmente messo un po' una parola fine a questa discussione oggi la situazione ci permette di guardare oltre. Abbiamo voluto usare un titolo a questa nostra conferenza di politica economica perché indubbiamente credo che mai come in questo momento il mondo, l'Europa in particolare ma non solo abbia bisogno di scelte forti di tipo politico e non soltanto di tipo economico. Se guardiamo la situazione specifica dell'Europa, in fondo quello che aveva animato la nascita 13 anni fa dell'euro era uno slancio anche abbastanza di tipo ideale a cercare di trovare un modo di unire l'Europa. Questo sicuramente è un fatto molto positivo, sicuramente sono stati enormemente sottostimati gli squilibri che c'erano in Europa e pertanto si è arrivati alla crisi che abbiamo ancora in corso che è una crisi che però effettivamente se riusciremo a superarla, cosa la cui probabilità è molto elevata ci darà la possibilità di vedere veramente forse nascere prima o poi una vera e propria Europa unita molto di più di quanto non sia oggi. Ecco, queste erano le cose con cui noi ci siamo lasciati esattamente un anno fa. Questo era il finale della nostra conferenza di un anno fa che diceva le cose che potete leggere. L'Italia è un paese solvibile ma occorre che la politica faccia la sua parte. Dall'ora ad oggi l'Italia è completamente cambiata. Eravamo proprio in questi giorni di un anno fa in una situazione di avvicendamento che se non ci fosse stata probabilmente non saremmo più qui a parlare di Europa e di Euro. Direi che nel confronto internazionale i dati che vedevamo allora non facevano sfigurare l'Europa vis-à-vis degli altri grandi complessi del mondo. Dicevamo che si difettava di una guida unitaria, i problemi, ma il giudizio dell'Anglo Sassone appare fin troppo severo. Si è poi visto che effettivamente la crisi che è stata sicuramente scatenata all'inizio dalle vendite sui titoli di Stato europei si è pian piano lentamente ridimensionata. La soluzione virtuosa per l'Europa non può che essere un compromesso, austerità e riforme in cambio di risorse e unità politica. L'Italia deve fare la sua parte non solo tirando la cinghia ma anche tirando la volata, facendo cioè sentire la sua voce di socio fondatore nel Consiglio d'amministrazione dell'Europa. Ecco questa affermazione secondo me direi col seno di poi possiamo dire che l'Italia ha fatto molto. Cioè il nuovo governo di cui l'Italia si è dotata un anno fa sicuramente oggi è un governo autorevole che siede a buon titolo nel Consiglio d'amministrazione dell'Europa e che dice la sua in tutte le occasioni in maniera assolutamente credibile e enormemente di più di quanto non succedesse in passato. Quello che io ho voluto preparare questa sera è stato, direi all'inizio, per la prima parte, poi taglierò quello quando necessario, un confronto tra quelli che sono comunque oggi nel mondo ancora i due maggiori continenti da un punto di vista economico e cioè l'Europa e gli Stati Uniti. Questo perché? Perché mi piacerà poi farvi vedere che come in realtà la gestione di questi due grandi continenti di cui uno è veramente un unico paese e l'altro un insieme di paesi sia stata assolutamente diversa, continua ad essere molto diversa e sostanzialmente questo ci farà capire come questa diversa gestione e questa assoluta differenza di governance porti poi a delle difficoltà che hanno riguardato molto più l'Europa in questo periodo che gli Stati Uniti anche di fronte a dei dati di tipo economico che sostanzialmente non ci vedono assolutamente sfigurare, anzi in certi casi i dati economici e finanziari dell'Europa nel suo insieme sono decisamente migliori di quegli americani. Vedete che alla fine i due grandi blocchi non sono così diversi perché abbiamo molti più abitanti in Europa ma abbiamo sostanzialmente un prodotto lordo dei 27 paesi che oggi rappresentano l'Europa che è un pochino superiore a quello americano neanche di tanto. Abbiamo un reddito pro capite, parliamo sempre dell'ultimo, della colonna di sinistra, di destra, l'ultima della slide, che è decisamente più importante per quello che riguarda gli Stati Uniti rispetto all'Europa e abbiamo una popolazione che è di circa 315 milioni di persone da una parte e di circa 500 milioni di persone dall'altra. Ecco, questi sono i macro dati proprio per semplificare le cose. L'Unione Europea nel suo insieme tutti questi dati sono espressi tanto per renderli omogenei in percentuale del PIL, ha avuto un totale di entrate, parliamo sempre del bilancio dello Stato, del 44% rispetto al PIL. Gli Stati Uniti del 32%, le uscite sono del 48% in Europa e del 40% negli Stati Uniti. Come vedete, la differenza tra entrate e uscite per quello che riguarda queste macro variabili è molto diversa, cioè abbiamo un deficit pubblico medio europeo che è sotto il 4% e abbiamo un deficit pubblico americano che è poco sotto il 9%. Quindi questa prima immagine la dice lunga sul fatto che in realtà in termini di dati la situazione europea da un certo punto di vista è migliore di quella americana. Se poi andiamo, proseguiamo, qui questi dati ovviamente dipendono sempre dal modo in cui li si prende, ma sostanzialmente sono corretti, sono omogenei. Oggi il debito pubblico americano, sempre in percentuale del PIL, è circa il 107% del PIL. L'Unione Europea ha viceversa un debito pubblico consolidato dell'87%. Il deficit primario, quindi non quello di prima che prendeva anche gli interessi sul debito, ma quello primario europeo è all'intorno dell'1,5% e quello americano del 6,5%. Allora, quando si guardano questi dati, la domanda che viene immediatamente a chi più o meno ha una certa dimentichezza con questi numeri ma com'è possibile che quindi davanti a due continenti che non sono così dissimili per dimensioni e in cui ce n'è uno, l'America, che ha anche dei dati che da un esame oggettivo sono peggiori di quelli europei, di fatto si parli sempre e solo esclusivamente di crisi dell'Europa, cioè non è messa in discussione, gli Stati Uniti non vengono messi in discussione. Beh, direi che la risposta dal mio punto di vista a questa domanda è abbastanza chiara. Ci sono due elementi che costituiscono una differenza sostanziale tra questi due blocchi economici e di popolazioni del mondo. Cioè da una parte abbiamo un paese solo, quindi abbiamo un paese solo dove con tutte le sue diversità ha una politica unica, c'è una governance unica, c'è un processo democratico di elezione di un presidente ogni x anni, tutti conosciamo queste cose. Dall'altra parte abbiamo un insieme di paesi che vediamo con quale fatica riescono a trovare una convergenza nelle loro politiche e per quanto, come ha detto prima la dottoressa Buffacchi, si siano fatti dei progressi, vediamo che questi progressi avvengono sempre con enorme lentezza e con grande fatica e siamo sempre sul filo del rasoio. Dall'altra parte, questo forse è l'elemento ancora più significativo che fa la differenza tra questi due grandi paesi, abbiamo, io li chiamo paese, ancorché l'Europa non lo sia, ma speriamo che un giorno altro lo sia di più, abbiamo che, guardate queste linee, cosa succede? L'abbiamo preso come riferimento l'agosto del 2008, tanto per prendere, eravamo nel mezzo della crisi. E' successo che da allora ad oggi la politica monetaria delle due banche centrali, la BCE da una parte e la Fed e la Reserve dall'altra, sono state completamente diverse, ovvero entrambe hanno dovuto incrementare la massa monetaria, quindi iniettare liquidità nell'economia, ma l'hanno fatto in misure completamente diverse. Vedete che la linea blu superiore è quella della Fed, che si posiziona intorno a circa 300 rispetto al punto di prendenza che è 100, la linea invece della BCE arriva al di sotto di 200. In questo scenario cosa vuol dire? Vuol dire che la politica monetaria americana ha cercato in tutti i modi di sostenere l'economia americana con un'aggressività assolutamente enorme se paragonata ai criteri europei. Tutto questo ovviamente ci pone una domanda non nell'immediato, perché nell'immediato sicuramente gli Stati Uniti hanno adottato l'unica politica possibile, o comunque una delle poche possibili, ovvero sia cercare di sostenere l'economia in tutti i modi. Sicuramente i ritmi di crescita della massa monetaria sono straordinariamente alti, tutto questo ovviamente ha continuato a ingigantire il debito pubblico americano, pertanto questo tipo di differente politica utilizzata dai due paesi, vista da un occhio, come dire, superficiale, ha portato sicuramente un grande successo, o comunque ha limitato molti danni negli Stati Uniti, e invece ha messo in seria difficoltà l'Europa. I dubbi che ovviamente chiunque ha, guardando queste cose, è quanto può durare. Non c'è dubbio che questa differente, cioè i criteri adottati nel giudicare la politica americana, anche dai mercati, lo vediamo adesso, chi di voi segue queste cose, c'è in corso questo grande dibattito, in questo periodo, tutti temono che con la fine di quest'anno, quando verranno meno le agevolazioni fiscali, che erano state previste dal governo Bush, e dovrebbe essere aumentata, ridotta anche la spesa pubblica, tutti temono enormemente questo fatto, perché questo ovviamente farebbe in modo che gli Stati Uniti avrebbero sicuramente un tasso di crescita molto più basso di quello che hanno avuto. Addirittura alcuni temono che potrebbe avvicinarsi allo zero, anche se ci sono varie stime di tutti i tipi. Dall'altra parte, noi abbiamo invece un'Europa a cui i governi europei e i mercati hanno chiesto una politica completamente opposta. Cioè hanno chiesto ai paesi rigore, hanno chiesto aumenti di tasse e diminuzione di spese. Esattamente il contrario di quello che quegli stessi mercati stanno chiedendo di fare agli Stati Uniti. È la stessa cosa, la differenza sta solo lì, che gli Stati Uniti sono in grado di governare queste variabili in maniera molto più dinamica, l'Europa è piuttosto imprisionata dai suoi meccanismi che rendono tutto estremamente complesso. Quindi io volevo sottolinearlo questo fatto perché a mio avviso è estremamente importante. Anche il risvolto che c'è stato per quello che riguarda i mercati azionari è molto diverso. Grazie sempre al fatto che sicuramente le grandi imprese sono molto più presenti negli Stati Uniti di quanto non siano in Europa, vedete che i mercati che hanno ampiamente recuperato dal 2008 sono sostanzialmente mercati anglosassoni. e cioè Stati Uniti e UK che tra l'altro nella slide prima non l'ho commentata ma la politica monetaria del UK è stata addirittura ancora più espansiva di quella americana. Mentre invece i fanalini di coda sono l'area aero nel suo insieme e all'interno dell'area aero l'Italia. Quindi anche da questo punto di vista l'Italia ha purtroppo patito molto di più. Guardate che ancora oggi 100 la linea di partenza siamo un po' sopra per quello che riguarda il mercato americano siamo a circa 60 per quello che riguarda l'Italia. Quindi vuol dire che noi siamo ancora al di sotto del 40% rispetto a dove eravamo. Questa è un'altra cosa che mi faceva piacere farvi vedere perché l'Europa nel suo insieme trarrebbe un enorme giovamento dall'avere un euro più debole. La verità è che paradossalmente perché voi vedete che noi siamo partiti con la nascita dell'euro con un rapporto di circa 1,2 nel 97 con col dollaro siamo saliti e scesi siamo arrivati a un massimo di un 1,60 oggi siamo lì intorno a 1,30 1,29 giù di lì. È evidente che purtroppo in questo mondo in cui tutti competono con tutti tutti avrebbero un gran bisogno di avere delle valute più deboli per rafforzare le proprie esportazioni e non si riesce a farlo. Probabilmente anche da questo punto di vista una politica più coordinata a livello europeo potrebbe aiutare ad avere un euro che paradossalmente se fosse più debole darebbe un grosso aiuto all'Europa. All'interno di quello che viceversa è l'Europa per scendere molto di più a questo punto a un confronto più europeo qua io ho voluto prendere i quattro principali paesi che rappresentano l'Europa. Voglio dire rappresentano una parte importante sia in termini di popolazione che in termini di prodotto. La Germania la Francia l'Italia e la Spagna. Voi vedete che se prendete l'estrema sinistra della parte superiore la Germania in questi cinque anni che sono monitorati al 2007-2012 ha avuto sempre un discreto tasso di crescita ha continuato ad avere una politica estremamente equilibrata e oggi lo vedremo anche nelle slide successive a una situazione di tutto rispetto. Gli altri paesi hanno arrancato i tassi di crescita sono stati molto più bassi l'Italia anche in questo confronto è il fanerino di coda non c'è dubbio che da questo punto di vista la situazione italiana in termini di crescita continua a essere la più debole di tutti. Il PIL pro capite vedete che si passa dai 39.000 euro della Germania ai 30.000 dell'Italia erano 34 per la Germania nel 2007 sono passati da 39 gli altri sono tutti leggermente diminuiti. La Spagna è sicuramente quella che tribula di più l'Italia arranca. Quali sono i motivi di tutto questo? I motivi di tutto questo sono tantissimi ovviamente siamo qui a parlare di questi temi di motivi ce ne sono moltissimi. Sicuramente uno dei motivi per cui l'Italia ha continuato a non crescere è che è in assoluto in Europa il paese con la minore produttività. Cioè questo è un indicatore molto preciso misura quello che è la produttività del lavoro noi siamo fanalino di coda da tutti i punti di vista continuiamo ad avere una scarsissima produttività adesso avete visto recentemente si è parlato molto di produttività perché sono stati fatti insomma se non altro dei piccoli accordi che consentiranno se non altro di sgravare da un punto di vista fiscale una parte del salario delle persone o degli stipendi in funzione della produttività ma sono piccole cose qui la verità vera è che il nostro paese continua a essere gravato da tanti di quei orpelli di tutti i tipi per cui sostanzialmente la conseguenza di tutto questo è una scarsissima produttività questi dati che vi faccio ancora vedere sono dei dati sempre di confronto macro vedete che in questi confronti di nuovo Francia, Italia Germania e Spagna hanno delle situazioni in cui Germania e Italia paradossalmente sono quelli che hanno il deficit in Europa più basso perché abbiamo praticamente una Germania che è quasi piatta con lo 0,4% un'Italia che è al 2,7% una Francia che è al 4,7% e una Spagna che è al 7% cosa vuol dire questo? vuol dire che non è che la situazione anzi come molti di voi sanno probabilmente noi saremo il primo paese in Europa e uno dei pochi al mondo che arriverà addirittura ad avere l'anno prossimo o tra due anni un surplus primario quindi da questo punto di vista possiamo dire di essere in equilibrio il problema vero nostro continua a essere una produttività assolutamente insufficiente l'altro problema che continua a gravare queste sono cose banali che sanno tutte ma insomma vederle così forse ordinatamente serve a capire le cose ovviamente noi siamo il paese europeo gravato da un fardello di debito enormemente superiore agli altri perché quella media che abbiamo visto prima è una media la verità è che noi continuiamo a lottare con questo debito le politiche fino ad ora attuate anche da questo governo sono state molto di più indirizzate a cercare di migliorare il deficit e pochissimo a cercare di migliorare la situazione di debito del paese su cui ci vorrebbe molto più coraggio e questo per adesso non l'abbiamo ancora visto noi siamo sempre preoccupati del debito pubblico italiano ed è giusto che lo siamo perché essendo uno dei debiti più grossi al mondo non si può non esserlo quando però passiamo in rassegna questi dati di nuovo vediamo che noi non siamo mica poi così malandati ovvero sia è vero che il debito pubblico è molto alto ma è anche vero che in termini di percentuale sul PIL il debito delle famiglie italiane è di gran lunga lo vedete la seconda colonna dalla sinistra è di gran lunga il più basso quindi siccome non è questo tipo di confronti è molto interessante perché abbiamo imprese finanziarie poco indebitate abbiamo famiglie poco indebitate quindi la somma di questi dati che vede come paese più virtuoso Germania Austria subito seguito da Finlandia poco dopo Francia poi vede subito l'Italia molto davanti all'Olanda alla Spagna agli UK a tutti quegli altri paesi che invece spesso ci vengono presentati come paesi enormemente virtuoli dov'è che di nuovo noi siamo assolutamente in fondo anzi dipende da dove riguardiamo le classifiche ma sicuramente siamo in fondo siamo in fondo per tutti quegli aspetti di tremenda burocrazia che ci massacrano la vita quotidianamente cioè noi siamo il paese europeo in cui ci vuole più tempo questo è un termine un po' semplificativo ma insomma per dare un'immagine visiva viene identificata il numero di ore dedicate a un'impresa a pagare le tasse ovviamente queste sono delle semplificazioni ma sono dati reali cioè in sostanza vedete che passiamo ai due estremi in UK che essendo un paese anglosassone ovviamente gestisce le cose in maniera diverse siamo a 110 noi siamo a 285 altro dato adesso sono state fatte delle modifiche per cui in realtà aprire un'impresa in Italia sta diventando più semplice in termini burocratici un po' di più di prima ma abbiamo dei costi che sono assolutamente insostenibili per cui per qualunque persona voglia aprire un'impresa i costi passano dal 18% del reddito pro capita del paese a meno dell'1% in UK queste sono cose che ovviamente fanno l'enorme differenza e su cui si è cominciato a lavorare a mio avviso ancora troppo poco l'altro dato che ovviamente ci mette in una condizione per cui l'incentivo a intraprendere attività in Italia è bassissima e oltre alla burocrazia che evidentemente rende difficile la vita di tutti un carico fiscale che è assolutamente spaventoso vicino a quello francese e direi molto più del doppio di quello inglese direi del 50% superiore alla media europea quindi questi sono dati che ovviamente rendono disincentivano qualunque attività altra cosa che disincentiva molto il lavoro in Italia sono i tempi della giustizia che sono drammatici qui ci sono dei dati che danno quelli che sono i vari cicli di giudizio la media europea che peraltro sicuramente non possiamo dire buona è 5 anni per quello che riguarda il primo e il secondo grado arriviamo a 6 anni di solito con la Cassazione da noi c'è una media di 7 anni del primo e secondo grado il dato della Cassazione non è nemmeno messo perché in certi casi è impresentabile persone che vivono di politica questo è un dato di nuovo ecco questo è il dato che identifica cioè qui non parliamo della spesa pubblica dei dipendenti pubblici ma persone che in qualche maniera passando dai comuni alle circoscrizioni alle province alle regioni ovviamente arrivando fino al Parlamento vivono di politica intesa come non hanno un'attività preeminente se non la politica questo numero che è spaventoso perché 1.300.000 persone è un numero pazzesco costa annualmente quasi più di 18 miliardi di euro e rappresenta il 12% del gettito IPEF una cifra assolutamente improponibile concludo che cosa si può fare davanti a questo scenario che sicuramente ci vede ancora con tantissime cose da fare poi ovviamente io questa è un'elencazione come dire che non è che è un'elencazione con delle proposte operative su ogni tema ma perché di ognuno di questi temi si dovrebbe parlare per dei giorni il costo complessivo nostro della macchina statale è mostruoso cioè è mostruoso è altissimo è direi un po' più basso di quello francese che è peggio di noi ma è un multiplo di quello di altri paesi su questo fronte si è cominciato a fare con una timidezza assolutamente enorme tutti parlano di costi della politica tutti vorrebbero non più vedere i politici girare con le macchine blu avere tre segretari cioè da tutti pagati dalla collettività in realtà poi se andiamo a vedere quello è più un fatto simbolico che comunque secondo me è ugualmente importante perché l'esempio non può che venire di lì però sicuramente i veri numeri sono in una macchina statale complicatissima e assolutamente costosa l'evasione è inutile che ne stiamo a parlare sappiamo tutti che continuano a rappresentare e devo dire che da questo punto di vista si sta facendo qualcosa di concreto perché oggi tutte le varie cose che sono state implementate faranno sì che in futuro sicuramente secondo me da questo punto di vista si faranno dei progressi abbiamo un sistema normativo completamente inestricato cioè abbiamo un dedalo di norme che si contraddicono avete visto oggi o di ieri l'ultima di una contrapposizione normativa che porta addirittura a ipotizzare di chiudere la più grande azienda siderurgica italiana perché c'è una lotta normativa tra le norme che tutelano l'ambiente e quelle che tutelano la salute e in quell'intrico si insinuano dei magistrati che riescono addirittura a dar vita al blocco di quello che è il più grande e questo è conseguenza di una complicazione perché in altri paesi una cosa del genere non sarebbe possibile perché la norma è una e non è possibile eluderla le nuove leggi perché le leggi vengono varate e poi sostanzialmente i tempi per la loro attuazione pratica a volte fa sì che le leggi addirittura non riescano a diventare leggi perché la macchina è ormai incriccata e non riesce a far sì che le leggi diventino fatti operativi le sentenze amministrative le abbiamo visto prima in dei tempi che sono troppo lunghi quella è più un'affermazione generica di affermare l'interesse nazionale europeo rispetto ai clientelismi locali ma questo ha dei significati concreti se voi guardate la difficoltà con cui oggi viene fatta qualunque attività in Italia che riguarda per esempio l'energia cioè un tipico campo che è un campo di interesse assolutamente strategico per il paese vediamo che gli interessi locali bloccano tutto noi qui abbiamo l'esempio della Tav in tutto questo di nuovo deve passare attraverso revisione di norme che consentano finalmente di mettere l'interesse del paese al di sopra dell'interesse singolo credibile politica industriale io oggettivamente non la vedo in questo momento cioè non abbiamo un indirizzo chiaro in cui siano stati identificati due o tre cose da fare non trenta e tutti si concentrano su quello mi sembra che da questo punto di vista non ci sia oggi un indirizzo chiaro queste sono più cose forse che riguardano i nostri figli favorire la permanenza del torno di giorni oggi non è possibile che con tutte le persone con cui si parla tutti non vogliono fare altro che mandare i propri figli all'estero io compreso perché oggettivamente se noi non faremo in modo che i ragazzi trovino qua un ambiente per poter crescere e lavorare credo che abbiamo veramente poche speranze per il nostro futuro privatizzazioni ho lasciato per ultimo anche qui indubbiamente credo che ci sia della buona volontà perché la buona volontà esiste però questi temi oggi sono stati affrontati per ora debolmente tutto questo ovviamente noi ringraziamo tutti il governo attuale che ha fatto molto si rendiamo conto che avendo dovuto operare in un clima di emergenza totale il suo primo obiettivo era il non fallimento del paese in questo direi c'è stato del successo speriamo che quando avremo e se l'avremo un governo più stabile in futuro sarà possibile fare in modo che molte di queste cose vengano realmente affrontate e fatte grazie grazie molto grazie 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 grazie